Io ho votato convintamente contro la decadenza, infatti non ero stata inserita nella immediata lista di proscrizione che ha fatto il vicepresidente Di Maio e ho telefonato perché mi ci inserisse, quindi devo dire che da questo punto di vista ho messo la faccia, intendo metterla su questa vicenda proprio perché credo che se i senatori vengono chiamati a decidere su un tema così delicato poi si deve anche accettare quella che è la loro decisione in quanto sicuramente è stata una decisione molto pensata e sulla base anche di quelli che erano gli atti che avevamo.